Nel nostro primo circuito pilates andiamo a lavorare sulla flessibilità della colonna vertebrale e sulla mobilità delle anche, apri gli occhi e inspira, espandi il torace, fuori l'aria, fatti verso il pavimento, piega le ginocchia, stendile, pieghi le ginocchia nuovamente e cammini avanti, stabilita la posizione e ora ispirate uscili avanti, e ispirando dietro, avanti e dietro, ispira quando vai avanti, ispiri quando vai dietro, ultima volta rimani in spinta dietro, porta ora la gamba destra avanti e alco il ginocchio sinistro dietro, ispirando i sali, mantieni la posizione spingendo l'alto a destra avanti, cresci con le braccia e spandi il torace, appoggia le mani, punti il piede dalla tavola, inverti la gamba, allunga ti rimuovi in avanti i sali, cerchi di espandere la gabbia toracica e di tenere le cresti vie caldiniate, respira e mantieni, riappoggia le mani, punta entrambi i piedi, espirandosi nella posizione del cane, il gluteo in alto e caldini al pavimento, inaspira ed espira e stendi la gamba destra in alto, avvicini il torace alla coscia sinistra, appoggia, spingi nuovamente i bacini in alto e la gamba sinistra che sale, appoggia, piega leggermente le gambe e fai tre passi indietro, risali progressivamente con la schiena, apri il petto, chiudi gli occhi, risali progressivamente con la schiena, aperti minuto, fai tre passi indietro, raszczati, es quick stumble ag15funo che si soggi su camper 24, turno a la schiena, gamba wow la schiena,